ciao a tutti ragazzi benvenuti in questo video oggi stiamo sul conflitto di black ops 1 la precision 3 allora scegliamo subito che arma usare io sceglierei un bello sniper sempre se riesco a tirare qualcuno con giocando in questa schermata piccola che davvero molto difficile molto molto difficile quindi oh cazzo oh cazzo ok è morto non mi preoccupate don't worry proiettili ovunque intanto questa sarà una partita da cecchino quindi non è detto un probabile che anche cambierò la la classe però l'importante è vedere qualche kit chi che mi ha fatto? ok da start bravo con lì è bravo Dovino che si è fatto tirare comunque bene allora rimettiamoci al solito posto eccoli là eccolo no no ma non ce lo giuro ragazzi devo ripizzarlo questo è quello che doveva morire non potevo fare mai no 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 ragazzi mai non riesco no ok l'ho ucciso questo è una è una partita proprio di merda su un nuketown da cecchino oh cazzo lo sponso sparato porca di sette non solo da dire riuscire a fare andiamo con spondamento usando un comando un comando no ragazzi non sono davvero bravo tanto bravo a giocare così stiamo con un comando che forse è meglio no cazzo no no mannaggia giocci ci fanno tutti 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 po' porca di quello ancora un'altra mappa che non ci credo questo è bello stesso non si vedevano le fia quanti cazzo ce ne sta quanti cazzo ce ne stanno non si vedevano le fia no ragazzi e' troppo e' troppo non si vedevano no rc pur il tempo e' proprio che questa è una partita di merda proprio di merda proprio che non riesco a fare un mondo come chi lo fa? 2 e' sto al secondo posto vedi come stavo messi male qua abbiamo dei cecchini che cazzo manco quello di america sniper su questo crepa quando cazzo goto mi sei morto zudu go ma ma ora entro con le RPG e faccio il culo tutti i cecchini che stai soffri soffri porca merda muridolè ma anche come cazzo non fai muore in porta con la troia puttana e' prima di là bene noi non lo so non lo so come cazzo ha fatto il mondo cioè ragazzi c'ave il colpo di bazooka da affianco quello non è morto non è morto il ciclino non ci credo non ci credo la strontata con il giocato di quello non fatti da bocci che poi da lontano che sulla cassa che mi sembrava un balcone della madonna non è morto non è morto non è morto non è morto cambio anche il metodo non è morto non è morto cazzo già sono arrivati già sono arrivati poi ci fanno il culo forte prima ancora che prendo la pellicione casca subito eh dai buona 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 torretta robot è buona allora ma torretta robot consiglierei di metterla qua in grado che ti fa un bel po' di kill di poco il coglione che adesso deve cullare ho killato io però non fa niente grande grande buona abbiamo perso ma non fa niente perchè è stata una partita di merda ma proprio una partita brutta di quelle che ma che che schifo è sta merda però non fa niente vediamo l'ultima kill con 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 diciamo dai che è andata bene 11 uccisioni non mi aspettavo così tante uccisioni perchè pensavo di averne fatte solo 5 vabbè ci vediamo al prossimo video ciao ragazzi